Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Tulu Call of Madness, un gioco della Zaka Games Spero di averlo pronunciato bene Ed è un gioco competitivo che ora nel momento in cui avete visto, state vedendo questo video Sta uscendo la nuova campagna di raccolta fondi Che vi lascio, primo link in descrizione se lo volete andare a finanziare Gioco competitivo, ovviamente ambientato nell'universo creato da Our Philip Lovecraft E voi sarete chiamati nei panni di cultisti, quindi per una volta giocate dalla parte del male Non degli investigatori, in un Tower Defense competitivo molto 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 veloce La versione che vedete qui davanti vi ricordo essere un prototipo Quindi non è la versione finale, ci si avvicinerà sicuramente molto ma non è la versione finale Quindi tutti quanti i componenti potrebbero cambiare Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Tulu Call of Madness, come detto anticipatamente, è un Tower Defense È un gioco in cui voi sarete dei cultisti, dei grandi antichi Quindi non c'è soltanto Cthulhu, anche quell'altri E dovrete fare il vostro rito per evocare il grande antico Quindi per farlo entrare nel mondo e distruggerlo, comunque conquistarlo, comandarlo E ci saranno gli investigatori, che sono ovviamente NPC, mossi dalle regole del gioco Che faranno di tutto per asserragliarvi e fermare questo rituale Il vostro scopo è quello di fermarli prima che entrino nella fortezza, nell'headquarters E entrando lì dentro ovviamente avrete una possibilità ultima di fermarli Se no avrete perso la partita È un gioco competitivo perché si può giocare fino a 4 giocatori Ma dove ognuno è un culto a parte Quindi non è un gioco collaborativo tra cultisti per evocare il grande antico Ma vince il culto che per primo di tutti riesce a evocare il grande antico Quindi non solo dovete combattere questa intelligenza artificiale Questi, come ho detto appunto anticipatamente, investigatori da affermare Ma potrete provare, giocando delle carte, a muoverle anche contro i vostri avversari Quindi se il vostro avversario perde perché gli investigatori che ha sulla plancia Gli entrano nel QG e li fermano e li distruggono tutto quanto Voi avete la possibilità di levare un giocatore dal campo E andare avanti nella vostra scalata al grande antico Quindi vince soltanto un culto, non si vince tutti insieme La confezione del gioco, bellissimo il disegno, veramente da quadretto amigarba da morire E stranamente uno potrebbe pensare Noi siamo questi che vanno a fare l'assalto alla fortezza dei cultisti Invece è alla rovescia Questo è il vostro personaggio, uno di quelli che potete scegliere E questi sono gli investigatori che vengono per fermarvi Molto bella la confezione, mi garba anche E vi ricordo unboxing un po' così ragazzi Perché quello che c'è all'interno è soltanto la roba di un prototipo Non è la versione finale con tutti gli stretch goal Apriamo Il regolamento Veramente, veramente facilissimo Questa è la parte dello scopo del gioco Vi fa vedere anche i componenti, carte, le planche, i giocatori e quant'altro E poi qua giù si va sul setup, game setup Le regole generali E se togliete questa piccola parte Il gameplay e passate direttamente alle regole vere e proprie Cioè, sono due pagine di regole Quindi è comunque un gioco facile Che si intavola molto 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 velocemente Poi qui ci sono le plancette dei vostri personaggi con il QG Sempre vi ricordo tutto quanto essere in versione ovviamente prototipo E vedete queste qui sono le varie caselle dove voi potete andare a muovere Gli investigatori che cercheranno di fare l'assalto alla vostra fortezza E poi qua giù, questo qui è il pool Dove andate a mettere i punti sanità mentale Le varie carte che potete mettere per andare a pescare e quant'altro Zona di scarto Invece da quest'altro lato qua giù Come vedete ad esempio qui e di qua Fanno vedere a quale personaggio appartiene Quindi se scegliete un personaggio, un cultista rispetto ad un altro Prendete la plancia insomma col suo disegno Il materiale comunque è fatto veramente bene È molto curato Ed è ricco di cose Perché poi alla fin fine ci sono ad esempio le miniature Le miniature di ciascun cultista C'è cultista scusate, capo del culto E ci sono questi qua che sono quelli che poi avete visto Segnati anche direttamente sulle schede Servano per indicare insomma per gli spostamenti del vostro personaggio E per ricordare anche sulla plancia dove si trova il quartier generale Carte di setup iniziale che vi fa vedere qual è il vostro setup Quindi prendendo questa carta qui E prendendo direttamente il tabellone Vedete che è diviso con gli stessi esagoni come il tabellone A parte queste zone qua su in cima Dove non è possibile per i nemici fare accampamenti Quindi più avanti vi spiegherò un po' come funziona Ci sono delle regole d'accampamento E in queste zone qua giù non ci si possa mettere Questo è il vostro setup iniziale Che vi fa vedere dove mettere investigatori Con quanti punti ferita E come vedete qua giù questo è il livello di danno Che vi viene fatto Quindi perché poi il danno non viene fatto a voi Viene fatto ai vostri cultisti Quindi se un vostro cultista viene ucciso Voi questi danni qui li subite come cultisti Meno 3 cultisti come vedete Se il cultista è di colore verde è vostro Se è di colore rosso potete farlo togliere anche ad altri giocatori Comunque a parte queste cose qui Nella tabella, nella mappa di un altro giocatore Però questo è il danno che vi viene fatto E quale miglior modo diceva Conan il Barbaro Di uccidere una divinità? Ammazzare il suo culto Quindi voi perdete se rimanete senza cultisti Nel setup iniziale qui andrebbe messo Un cultista qui, uno qui, uno qui, uno qui e uno qui Plancetta, play raid Che sono quelle che vanno ad aiutarvi Nell'azione in quello che potete fare E soprattutto qui vi viene incontro Perché nel gioco ci sono un po' di icone Cosa che un pochino mi ha messo paura anche a me inizialmente Perché fanno vedere un po' di immagini E qui c'è il livello di attacco Vedete attacco che si può fare a un nemico Qua sotto invece c'è La forza che guadagna un nemico I movimenti che fanno i nemici I cultisti, nei due colori come vi ho detto E tutte le altre icone Poi ci sono questi token esagonali qui Questi segnatori qui Che sono i punti ferita degli investigatori Se un investigatore ha 4 punti ferita Lo mettete così Quando scalerà perché gli farete ferite Magari gli fate 2 ferite Va 2 Lo mettete di qua E il simbolo segnato qua su in cima È quello che vi ho fatto vedere inizialmente Ovvero il danno che vi fa affare ai cultisti Se verde vostro Se rosso del vostro avversario Poi ci sono tutte quante le carte azione Un bel po' un mazzetto Che voi le mettete in campo E le andate ad utilizzare A prendere per fare appunto Le azioni qui sopra descritte Che sono sempre in 3 tagli Almeno nella maggior parte dei casi Prima azione qua su Andate a vedere sempre sulla leggenda Cosa vuol dire quel simbolo Poi c'è la seconda azione E la terza azione Voi di questa carta Le azioni le potete fare nel vostro turno Tutte e tre L'unica limitazione è che non potete fare Potete fare un'azione per investigatore Quindi se ho tre investigatori sulla mappa A, B e C Questa la faccio su A Questa la faccio su B E questa la faccio su C A meno che non ci sia scritto nient'altro sulla carta Che vi vada ad indicare qualcosa di particolare Queste azioni qui le potete fare Sia contro i vostri Che contro quelli dell'avversario Questa è un'azione gratuita Gioco la carta Faccio questa azione E avrò Quest'icona qui Che mi rappresenta qualcosa Questa è un'altra azione che posso fare su un'altra E non mi costa niente Questa nel mezzo ha una limitazione E mi dice Se voglio fare sia questo effetto Che questo effetto sotto Lo posso usare soltanto nel ciclo notte Perché il gioco viene scandito dal primo giocatore All'inizio del turno Che passa da giorno a notte Quindi questa azione La posso fare soltanto di notte Ma in un altro caso Potrei fare questa azione Magari spendendo un punto follia Comunque tanto sulle carte C'è scritto tutto Poi abbiamo un po' di token Un po' di indicatori Un po' di token quadrati Un pochino più grandi Che sono gli accampamenti Quindi secondo le regole del gioco Gli investigatori possono formare accampamenti Sulla vostra mappa E formando accampamenti Vanno non soltanto a bloccare delle zone Quindi se fanno un accampamento qui Questo accampamento blocca Questa zona che vedete qui Però poi quando passeranno da qui Avranno anche dei vantaggi Come vedete Perché quando passano qua sopra Sull'accampamento si vanno a rinforzare Ovviamente tutto quello che è presente Nella mappa di gioco Voi lo potete rimuovere Potete uccidere investigatori O distruggere accampamenti Il token giorno e notte Come vi dicevo Altri token degli investigatori E i mazzi di carte comprendenti Carte che potete utilizzare Missioni Che queste sono le missioni Che ho scritto quello che dovete fare E poi ci sono le carte Dei grandi e antichi Che potete andare a comprare E ad utilizzare E il sacchetto dove dentro Dovete mettere tutti i segnalini Dei punti follia Quando voi andate a mettere in campo Un investigatore Li dovete sempre mettere sopra Un token follia Che sotto ha un valore Però ve lo dovete mettere coperto Quando lo uccidete Magari guadagnate Quel punto follia Quei due punti E li andate a prendere Dal sacchettino E ve li mettete Sulla vostra plancia Perché questi Sono la vostra potenza Che vi consentono Di utilizzare tutti quanti O giocare carte O fare anche altre cose Prerequisite come vi ho fatto vedere Prima con un costo Ragazzi Ben o male Le regole del gioco sono qui Stranamente per una volta Ve l'ho fatta vedere Durante in fase di unboxing Ma anche perché Il gioco non è completo È soltanto un Come dicevo principalmente Il gioco è un prototipo Comunque le meccaniche Sono molto semplici E vedete il contenuto È anche molto interessante Valutazione finale Questo tool Call of Madness È un gioco Veramente semplicissimo Fondamentalmente È un tower defense plus Io lo chiamerei Con delle cose in più Con le carte Le azioni che potete fare E poi Ganso Poter andare a minare Le azioni di quell'altro giocatore Quindi è un gioco Secondo me Alla portata di tutti Il regolamento Almeno che non cambia Nella versione finale Sono tre pagine Di cui una È il setup Quindi sono veramente Due pagine Non scherzo Ed è veramente Molto 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 veloce È carino Ed è una ventata Ad aria fresca In ambientazione Lovecraft In ambientazione Cthulhu Perché siamo sempre visti Nei panni degli investigatori Come ad esempio Abbiamo visto Deep Madness Che tanto Poi la più infine Si ispira a quello Oppure abbiamo visto Le case della follia Arkham Horror O un altro bellissimo Che io adoro da morire Death May Die Però noi siamo sempre L'investigatore Siamo sempre quelli Che devono fermare il male Invece in questa versione qui Siamo i cattivi Che devono fermare i buoni E quindi è una cosa interessante Secondo me Ha delle meccaniche Veramente Veramente Molto interessanti Comunque Se volete Maggiori informazioni Vi lascio Primo link In descrizione La nuova raccorta fondi Che è appena partita Io ringrazio Ancora una volta La Zaka Games Sperando Ragazzi Di averlo Non è una lingua Molto semplice Per noi italiani Di averlo pronunciato bene Grazie per avermi fornito Questo prototipo Che ricordo Essere soltanto un prototipo E trovate tutte Le informazioni Se lo volete acquistare Ma dateci un occhio Perché è un gioco Veramente interessante E differente Rispetto a tanti altri Che avete in casa Nella stessa ambientazione Andate a vedere direttamente La raccolta fondi Ciao ragazzi Alla prossima